finalmente il grande giorno è arrivato credetemi premevo all'idea di rendervi partecipi di questa bellissima novità vi presento il mio libro in cucina con paolina mi tremano le mani il cuore mi batte a mille credetemi e da dove iniziamo dalla copertina dove spicca il rosso che è il mio colore preferito e dove non passa inosservato il mio sorriso credo che esprima veramente tutta la gioia per aver vissuto questa esperienza straordinaria e devo dire grazie a la rizzoli la casa editrice con cui ho avuto l'onore e il piacere di collaborare per realizzare questo libro e questo è un sogno che diventa realtà e se in cucina con paolina arriverà anche libreria è grazie a voi che ogni giorno seguite le mie ricette e le seguite con grande affetto e io ve lo dico veramente dal profondo del cuore il mio grazie è veramente sentito e parliamo delle date d'uscita del libro vediamo se riesco ad essere un po meno emozionata è il 14 novembre la data ufficiale e però già da oggi è preordinabile lo potete cioè preordinare sia online sia nella vostra libreria di fiducia e vi lascerò in descrizione la spiegazione nel dettaglio di come fare è un libro bello bello fornito e sono vi posso anticipare che sono quasi 400 pagine ci sono tantissime ricette oltre 80 molte sono inedite e poi tante preparazioni base trucchi consigli curiosità e non ho dimenticato neanche le alternative vegan e senza glutine che spesso mi chiedete spero vi faccia piacere e nelle prime pagine poi vi racconterò anche un po come come è iniziata questa esperienza in cucina con paolina insomma che dire io spero davvero che questo libro possa entrare nelle vostre cucine ma soprattutto nel vostro cuore e ci teniamo aggiornati ci vediamo presto e fatemi sapere nei commenti se un po ve l'aspettavate questa novità e cosa ne pensate un bacione dalla vostra paolina